ciao ragazze allora nuovo video tutorial facciamo il tutorial delle famose pandorine che vi ho fatto vedere nel video precedente allora ne ho fatte quattro tipi però vi faccio il tutorial di questa che è quello che mi convince di più allora io in questo caso l'ho montato su una catena vedete adesso ne facciamo un'altra uguale perché ne voglio attaccare tre sulla catena quindi ne dovrò fare altre due vi faccio vedere anche gli altri uguali che sono queste qui le ho montate come bambolini angioletti eccole qua questa è leggermente diversa perché è un po più schiacciata perché ha un un passaggio in meno rispetto alle altre però vi faccio il tutorial con il passaggio in più perché viene un i bicono sono un po più in evidenza è un po più carina secondo me rispetto a questa però sono molto carine e vi faccio vedere anche come ho montato gli altri tipi anche se allora ho montato questo su un braccio ho fatto un bracciale con del filo elastico niente di particolare è molto bellina poi questa che un altro tipo ancora che l'ho montata come bracciale su una catena in alluminio e poi questa più piccolina che ho montato come un angioletto e niente torniamo a noi facciamo quindi il tutorial di questa pandorina che ho deciso di chiamare Noemi allora io do dei nomi a caso praticamente leggo i commenti che mi mandate sui video sotto i video è il primo nome che mi viene davanti perché lo sapete che non sono brava con i nomi però siccome ultimamente sto mettendo tutti i nomi da donna allora il primo nome che mi capita nei commenti o metto sulla mia creazione quindi questa pandorina si chiama Noemi allora vi dico subito il materiale necessario per poterlo realizzare allora abbiamo bisogno di perle da 8 mm bicono da 4 rocai 11.0 della toho 11.0 e 8.0 e le bugle da 3 mm allora la prima cosa da fare è quella di inserire sull'ago le 4 perle da 8 mm chiudere a cerchio e fare un paio di nodi fuoriuscire da una perla inserire una 11.0 ed entrare nella perla successiva ecco qua facciamo questo passaggio per tutto il giro ecco qua come ci ritroveremo a questo punto fuoriusciamo ancora dalla perla e ripetiamo lo stesso passaggio quindi prendiamo una 11.0 ed entriamo nella perla successiva questa tripletta si andrà a sistemare proprio sotto o sopra l'altra ecco qua quindi ripetiamo questo passaggio per tutto il giro ecco qua come ci ritroveremo fuoriusciamo ancora dalla perla inseriamo una 11 una 8 e una 11 ed entriamo nella perla successiva questa tripletta si andrà a sistemare proprio al centro tra le due perline che abbiamo aggiunto prima vedete quindi le sistemate in modo da formare il picco con la 8.0 perché noi dopo dovremo andare a lavorare sopra e sotto quindi sopra partendo dalla perlina appunto di sopra e sotto partendo dalla perlina di sotto in questo modo le dividiamo e questo ci servirà poi per fare l'ultima decorazione della nostra pandorina quindi ripetiamo questo passaggio per tutto il giro alla fine del giro fuoriusciamo da una delle 11.0 iniziali quindi o sopra o sotto non cambia ecco qua come ci ritroveremo una volta inserite tutte le nostre triplette fuoriusciamo dalla 11.0 da una delle 11.0 iniziali inseriamo una bugle tre rocai 11.0 e una bugle ed entriamo nella rocai successiva facciamo questo passaggio per tutto il giro ecco qua come ci ritroveremo fuoriusciamo ancora dalla rocai 11.0 di base e facciamo il famoso secondo passaggio in più che non ho fatto nella pandorina rossa questa ho fatto questo questo passaggio non l'ho fatto però io vi consiglio di farlo quindi fuoriusciamo dalla rocai 11.0 di base prendiamo una bugle ed entriamo nelle tre rocai 11.0 un'altra bugle ed entriamo nella rocai 11.0 di base successiva e facciamo questo passaggio per tutto il giro ecco qua che abbiamo fatto una seconda fila di bugle fuoriusciamo dalla prima rocai 11.0 delle tre inserite prima prendiamo tre rocai 11.0 saltiamo la perlina successiva ed entriamo in quella dopo e si verrà a formare un picco vedete prendiamo un bicono da 4 mm ed entriamo nella prima rocai della tripletta successiva e tiriamo bene perché questa parte si dovrà un po' chiudere dovrà andare a chiudere un pochettino il lavoro quindi cerchiamo di tirare bene ripetiamo questi due passaggi per tutto il giro scusate ecco qua come ci ritroveremo fuoriusciamo dalla rocai di punta e a questo punto andiamo a chiudere il lavoro metti a fuoco quindi prendiamo una bugle e passiamo nella rocai di punta successiva e chiudiamo bene un'altra bugle ed entriamo nella punta successiva e facciamo questo per tutto il giro e ripassate un paio di volte in modo da chiudere bene il lavoro ecco qua che abbiamo praticamente fatto la prima parte della pandorina adesso dobbiamo fare la seconda parte che è praticamente quella sotto che è uguale quindi dovete ripetere gli stessi passaggi che vi ho illustrato fino ad ora quindi fuoriusciamo da questa perlina e cominciamo a fare tutti i passaggi che abbiamo fatto prima e alla fine quando abbiamo costruito la nostra pandorina fuoriusciamo dalla 8 anzi no sì fuoriusciamo dalla 8.0 così facciamo l'ultima decorazione ecco qua la nostra pandorina è quasi pronta ultima decorazione fuoriusciamo dalla 8.0 inseriamo 2.11 e una bugle ed entriamo in questa perlina qua ecco quella centrale e tiriamo a questo punto inseriamo una bugle e 2.11.0 ed entriamo nella 8.0 successiva adesso nuovamente 2.11 una bugle entriamo qua una bugle 2.11 entriamo nella 8.0 successiva e continuiamo così per tutto il giro e poi facciamo la stessa decorazione però andandoci a collegare alla perlina sotto comunque vi faccio vedere ecco qua abbiamo fatto tutta la decorazione sopra adesso l'andiamo a fare sotto usciamo sempre dalla 8.0 prendiamo 2.11 e una bugle ed entriamo nella perlina centrale sotto quindi questa qui prendiamo a questo punto una bugle e 2.11 ed entriamo nella 8.0 successiva e facciamo questi due passaggi per tutto il giro ecco qua che la nostra pandorina è pronta io adesso l'ho già infilata nella catena però ne voglio fare un'altra perché così a due non mi piace ce ne vuole una terza vediamo se ho il tempo di farla adesso vedremo perché devo cucinare per il mio bimbo e niente ragazze spero che il tutorial sia stato chiaro che vi sia piaciuto che sia stato tutto chiaro e che vi sia piaciuta la pandorina e fatemi vedere le vostre versioni sono molto curiosa vi mando un bacio ciao